Questi sono i miti di Minecraft maledetto Allora io qua nell'inventario sono spawnato con un po' di cose E si se vedete strano è perché tipo è curvo Cioè il mondo è curvo Attenzione lì c'è già qualcosa Ok vedete? Perfetto ho preso pure la sua tessa Allora quello che sono io sono un demone praticamente Allora in questo posto ci sono cose veramente spaventose Scrivetemi nei commenti se vi piace Minecraft visto così Cioè con questi colori e questa shader Guardate come si rompono i blocchi ma che bello Questo è il libro delle quest come vedete E qua possiamo prendere tutti i regali che ci danno se completiamo le quest E io ho preso un po' di esperienza Ok ho il mio pipistrello personale come vedete Accidenti me ne capitano sempre di ogni e comunque Non posso mai star tranquillo io Uffa Aiuto aiuto c'è uno zombie proprio qua Ma non preoccupatevi Cioè io sono un demone voglio dire Raga lo sapete che con il demone si può notare nella lava Adesso vi faccio vedere Guardate qua adesso magari faccio un fail assurdo Ma no io so cioè ve l'ho detto Guardate madonna che figata sto potere Vai via tu non ti permettere mai più O creatura Io sono il demone E tu sei un poveraccio Per diventare più potente io praticamente posso Togliermi un po' della mia vita Adesso sono molto più potente tecnicamente Proviamolo Muori non ti permettere Aia raga 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 Dobbiamo stare attenti qua in superficie Perché potremmo appiccare fuoco a tutta la foresta E non vogliamo questo Però usare le esplosioni è molto bello Ok mi spiegate perché dannazione non mangia sto tizio Ah perché io sono carnivoro Ah certo Ha senso sono un demone Ehi ciao ho bisogno di una mucca fritta Scusa un attimo Bene 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 Guardate che stupido Ma non sa che io posso incrementare la mia forza E ucciderlo immediatamente Beh ora sto per morire però Consiglio di andartene Guarda che sono una bistecca Ti ho tolto tutta la vita Ok ci facciamo una postazione temporanea direi No ma guardate che figo Bellissimo Beh la prossima quest che abbiamo è rompere 5 di stone Per ottenere questi premi E ricapita un'altra volta Dobbiamo assolutamente trovare delle protezioni Perché in questo mondo io sono un demone Ma gli scheletri mi uccidono tranquillamente Non ti avvicinare Mannaggia a te Beh almeno la carne si è cotta dai Bene ho completato una questa quanto sembra Bene 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 Mettiamoci in viaggio all'avventura Per cercare posti Perché so che questo mondo è pieno di posti strani Ed inquietanti E comunque se ci pensate io posso essere un muta forma Perché tanto posso cambiare letteralmente La mia forma Cioè posso diventare anche un fantasma volendo E posso attraversare i muri Bene 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 Cosa abbiamo qui eh Mi spiace ma ti ucciderò semplicemente con Le mie bombe maledette Sarà meglio non lasciare del fuoco qua in giro Ho sentito che in giro in questo mondo c'è un'armatura invincibile Che praticamente ti protegge da tutto Bene 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 Iscrivetemi se volete vedere più video Del genere Ci vediamo nel prossimo video